Tecnicamente come possiamo spiegare LiveMode? Allora, tecnicamente è un'applicazione, diciamo che è un'evoluzione della videocamata che permette di trasferire, oltre che l'immagine, anche contenuti sensibili, messaggi vocali e disegni sull'immagine stessa. Nasce nella Silicon Valley, ma poi torna in Europa una start-up decisamente made in Arezzo. Si tratta di un progetto innovativo che potrebbe rivoluzionare il sistema di comunicazione tra esperti e casa madre quando c'è la necessità di effettuare un qualsiasi intervento su impianti e macchinari. LiveMode è nato circa un anno e mezzo fa, è un progetto che ha trovato la propria identità in un'azienda nuova, quindi in una start-up. È un progetto che nasce con lo scopo di aiutare le aziende che necessitano di uno strumento innovativo per fare manutenzione. Quindi parte da tutto quello che è il mondo dell'industria 4.0, che si è tanto sentita nominare, diciamo, ma poi magari non abbiamo visto delle applicazioni pratiche. Noi invece siamo voluti andare proprio sul pratico e costruire uno strumento che serva ai manutentori, diciamo, agli installatori che girano in giro per il mondo di diminuire la necessità di trasferte utilizzando uno strumento innovativo. Io posso inquadrare l'oggetto su cui ho un problema, inviare una foto dall'altra parte, che può essere anche dall'altra parte del mondo, e aspettare che l'operatore cominci a darmi istruzioni su questo oggetto. E tutto viene elaborato direttamente dallo smartphone. Quindi io posso spostarmi, appoggiare il telefono, andare a fare una lavorazione e poi continuare ad inquadrare e tutto quello che viene segnalato dall'altra parte rimane agganciato direttamente all'oggetto. L'app è ai suoi primi passi e questa esperienza ci racconta quanto il futuro del mondo del lavoro sia indubbiamente legato a questo settore. Difficile però per le aziende trovare personale specializzato. Stiamo cercando insieme ad altre aziende aritine del nostro calibro, insieme soprattutto a Giuseppe Bistoni, che è anche il presidente del gruppo terziario di Confindustria, quindi nel nostro settore, di lavorare insieme al Polo Universitario Aretino, che ricordo fa parte del Politecnico di Milano, quindi comunque è un corso di grandissimo livello, per cercare di mantenere le persone ad Arezzo piuttosto che spedirle a Milano, Firenze, Siena o altrove.